un caro saluto agli amici di O Sport e un benvenuto a Gianni Bugno alla vigilia della Milano Sanremo Gianni sono passati 34 anni da quella tua splendida vittoria ma stamattina abbiamo fatto un giro in bici siamo qui ospiti a Marina degli Aregai Bike Hotel certificato da in bici e tutte le persone che abbiamo incontrato ricordavano quella vittoria come se fosse accaduto l'altro giorno ti sorprende tanto affetto dopo tanti anni? Mi sorprende anche perché non sono più nell'ambiente quindi che la gente si ricordi quella vittoria lì mi fa molto piacere perché è stata una bella vittoria una vittoria importante per la mia carriera in una corsa particolare a cui io non ero proprio forse era la meno adatta alle tue caratteristiche era una corsa veramente agli antipodi delle tue doti di allora scherzando quei ragazzi che ci hanno accompagnato nella pedalata abbiamo anche ironizzato un po' sulla media che dopo 34 anni resiste ancora la media record 45-800 fu un'impresa che al momento sembrava una delle tante vittorie di Gianni Bugno riguardandola oggi insomma hai fatto qualcosa che è rimasto nella storia che è rimasto fino ad oggi nella storia quindi vedremo un po' quando ci sarà la prossima Sanremo e vedremo un po' se la media resisterà e veniamo all'argomento della nostra intervista il pronostico per domani la Sanremo è la corsa in cui è più difficile di tutti fare un pronostico domani ancora non si sa se ci sarà il percorso originale o dovranno affrontare la salita delle manie per bypassare una frana degli ultimi giorni credo che per motivi di sicurezza così faranno ma tu dovessi fare due nomi di due favoriti i nomi sono semplici uno è Pogacar che è il favorito in assoluto per quello che ha fatto alle strade bianche per quello che ha dimostrato alle strade bianche la condizione che ha e l'altro è Van Der Poel che ha fatto tutta la stagione nei cross però è un'incognita secondo me è un favorito in incognita e sarà Pogacar che dovrà sfidarlo e vedere un po' come si terrà fino alla fine perché lui sicuramente ha la condizione perché ha lavorato molto in quest'inverno con il cross però faceva il cross di un'ora quindi ha uno sforzo intenso però di un'ora sulla distanza bisognerà vedere se ha la condizione per stare dietro a Pogacar Ritieni che gli uomini veloci Philipsen è il primo nome che mi viene in mente siano totalmente tagliati fuori o qualche chance gliela concediamo? Per me sono tagliati fuori per quello che ha fatto vedere Pogacar sarà difficile che lui e il gruppo arrivi in volare Quindi questi due un gradino sopra tutti quanti gli altri Si, l'ho dimostrato ampiamente Però parliamo di due uomini che hanno nelle gambe una corsa, lo sloveno e zero corse Vanderpool Nel ciclismo moderno è abbastanza usuale però vedere gente che all'esordio vince oppure dopo un lungo periodo di allenamento in altura magari arriva e vince Ti piace e ti convince questo nuovo modo di approcciare le gare? Diciamo che è entusiasmo Loro vengono alle corse per vincere quindi se Vanderpool è qui alla Sanremo è qui per vincere quindi confido anche in questo che ci sia una sfida tra lui e Pogacar altrimenti se non c'è un Vanderpool che contrasta Pogacar potrebbe diventare una corsa noiosa Forse Pogacar ha una squadra un po' più forte sulla carta Però Vanderpool a Phillips che può giocarla se dovessero arrivare in volata O dire comunque io sono confinato Io sono confinato Potrebbe giocare anche così però non tesso Parliamo ora del podio C'è il terzo posto Secondo te chi se lo può giocare? Un uomo veloce o qualcuno che ha la forza di resistere? Un uomo veloce sicuramente Secondo me per quello che ho visto non è che c'è la sfera magica Certo Per quello che ho visto in queste gare in questa scorsa regione Pogacar ha dimostrato di essere superiore a tutti ampiamente Capitolo italiani Ghana l'anno scorso ha fatto un bellissimo secondo posto Milan ha fatto vedere di essere uno dei più veloci dell'otto Hanno qualche possibilità se non di vittoria di ottenere un buon poffamento? Milan sicuramente ha la possibilità di fare un buon risultato per quello che ha dimostrato anche l'Adiatico Ghana non è al top della condizione però la Sanremo è una corsa che si inventa al momento anche a 80% della condizione se è la classe decennica vada a riuscire di sesta Torniamo a 34 anni fa Cosa ricordi di più di quel giorno? Il tuo attacco sulla Cipressa la discesa del Poggio l'arrivo? Una giornata particolare ricordo un po' tutto perché siamo partiti pronti via siamo rinestiti a Genova in centro perché c'era molto vento e quella cosa si è svolta con il senso di Adiatico Da allora fughe di questo genere a media gittata non se ne sono più viste con il ciclismo moderno con queste alte velocità diventa sempre più difficile fare attacchi o partono da lontano le fughe ma nel finale è difficilissimo se non negli ultimi ultimi chilometri per cedere gli altri Ci sono tante squadre che tengono la corsa compatta e quindi diventa sempre difficile andare in furto probabilmente dovranno essere sempre la storia dell'alassica fuga da lontano di 4-5 corridori che potranno star davanti fino a che dopo la corsa non si cederà dietro E i due mostri secondo te aspetteranno rischiando il Poggio o anticiperanno già dalla Cipressa? Per me Pogacar c'entrerà dalla Cipressa a stanare un attimo Underpool Con l'aiuto dei compagni o entrerà direttamente? Sicuramente con l'aiuto dei compagni facendo una forte andatura per spazzare il gruppo dopodiché provranno ad attaccare e si vedrà cosa succederà E se domani batteranno i 45-800 di media andremo tutti a stringergli la mano? Andiamo più a stringergli la mano e tirami il cartello da la media No, il cartello rimane perché per 34 anni e adesso intanto vediamo la prossima media record quanti altri anni resisterà se ci sarà una nuova media record L'appuntamento è per domani domani sera faremo il rendiconto di questa edizione la centoquindicesima se non sbaglio della Milano Sanremo ci sono molte incognite Gianni ci ha aiutato a chiarirne qualcuna a domani rimanete collegati ciao da Gianluca Giardini ciao da Gianluca Ciao da Gianluca